Ha toccato anche la provincia di Arezzo la maxi-operazione antimafia della Guardia di Finanza. Dalle prime ore di questa mattina, oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del capoluoghe Etneo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 15 indagati, di cui 14 in carcere e una agli arresti domiciliari. I reati ipotizzati a vario titolo vanno dall'Associazione a delinquere di stampo mafioso all'usura, dallo spaccio di sostanze stupefacenti al riciclaggio di denaro. Gli indagati complessivamente sono 26. L'operazione, denominata Oleandro, ha toccato quattro regioni. Oltre ad Arezzo, eseguite misure cautelari anche nelle province di Catania, Caltaninsetta, Napoli e Dudine. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono nei confronti di appartenenti alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano di Catania, sequestrate infine società a beni mobile ed immobile e disponibilità finanziarie per oltre 12 milioni di euro.